Un incontro davvero importante, quello tenutosi nei giorni scorsi organizzato dal gruppo di giovani imprenditori di un'industria nella nuova sede di Valle Faul a Viterbo, tra il sindaco di Civitecchi Ernesto Tedesco e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Si è parlato di turismo alternativo a quello di Roma e quindi di quei pochi chilometri che rimangono della trasversale è incompiuta ormai da troppi anni che dovrebbe congiungere le due città. Devo dire che l'incontro è stato molto interessante perché oltre a parlare degli aspetti da sviluppare dal punto di vista del turismo si è parlato soprattutto di infrastrutture perché ovviamente per pensare di accogliere i turisti dobbiamo anche fare in modo che ci siano le strutture giuste per dare la possibilità ai turisti stessi di muoversi all'interno del nostro territorio e quindi il convegno si è incentrato principalmente su questi temi ed è per questo che si è parlato anche della trasversale. Mi sono insediato a giugno del 2019, qualche mese prima il TAR aveva bloccato questi lavori, questo percorso mandando poi alla Corte Europea. È tornata dalla Corte Europea con delle indicazioni che sono evidentemente state riprese dal TAR che di fatto impone, dovremmo leggere sicuramente le motivazioni per comprendere meglio, ma di fatto impone un altro tipo di percorso che secondo me poi finisce per allungare i tempi in maniera, non dico indeterminata, ma in maniera non compatibile con quelle che sono le esigenze del porto, le esigenze della città, di un tratto di comunicazione che oggi è interrotto è un percorso breve ma che deve essere portato a compimento.